Sus, a 20 chilometri da Monastir. Qui è stato ricostruito il Golgotha. I tecnici degli effetti speciali stanno provando la meccanica della crocifissione, una scena che per la sua complessità non potrà essere ripetuta molte volte. Andiamo giù per terra, c'è una scena che arriva. No, 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 Ben, you stay up, ah, stay, go. No, no, Ben, let's start from the beginning where you come. You have this on your shoulder, it's good. Ok. Per il dettaglio, c'è un chiodo fatto a siringa che martellando sopra entra scatto e dà l'impressione che entri. Per quanto riguarda il problema dei chiodi, abbiamo creato questi chiodi a rampino che l'attore Paolo aveva un problema sulla croce e andava avanti perché stava abbastanza in bilico. Con questo chiodo invece mettendolo dentro la bara, lui pigiava avanti e trovava un sopporto per il corpo. Così stava abbastanza equilibrato, cioè stava abbastanza comodo sopra. Alì? Per quanto riguarda il tuo espritato Alì? Per quanto riguarda il tuo espritato Ben come the tickets. Per quanto riguarda il tuo espritato Ogni particolare, ci ha detto Luciano Beard, responsabile di questo reparto della troupe, è stato studiato per mesi e mesi per evitare incidenti al momento del ciak. Levate quella scritta!